Buonasera, buonasera da Onda ATG, in primo piano subito la politica o recontate per l'amministrazione Ranalle, nove consiglieri comunali sono pronti per staccare la spina e quindi per decretare la fine anticipata dell'amministrazione. Sentiamo nel servizio di Domenico Berlingeri. E' solo questione di ore la fine dell'amministrazione Ranalli, nemmeno con l'intervento del governatore Luciano D'Alfonso con il quale il sindaco è andato a pranzo a Pescara e stato raggiunto un accordo per ricucire lo strappo. I tre consiglieri del PD e di quattro vicini all'assessore Gerosolimo, insieme alla Civite di Benedetto, sono pronti a firmare le dimissioni. Si sta solo attendendo il ritorno dall'estero di Alessio Di Masci per depositare l'atto ufficiale, con molta probabilità nella giornata di domani. Il sindaco Vepino Ranalli però potrebbe anticipare tutti, presentando prima lui le dimissioni per avere i 20 giorni di tempo e cercare di discutere con i ribelli per trovare una soluzione che fino ad oggi è mancata. La lunga e tormentata giornata era iniziata questa mattina con l'azzeramento della giunta. Il sindaco nelle prossime ore avvierà il confronto con le forze politiche cittadine per divenire in tempi brevi alla ricomposizione dell'organo collegiale. Era scritto così nel comunicato di stamane che ha aperto le danze. In tarda mattinata è arrivato in città il governatore Luciano D'Alfonso per una conferenza stampa all'abbazia celestiniana. Ranalli, Gerosolimo e D'Alfonso erano seduti vicino l'uno con l'altro e al termine l'assessore regionale alle aree interne, interpellato sulla questione, è stato lapidario, sostenendo solo di non aver raggiunto nessun accordo con Ranalli. Non abbiamo fatto alcun accordo, non so nulla. Io credo che del Comune di Sulmona è giusto che se ne occupino i quattro consiglieri comunali di Sulmona al centro e di certo che partecipo. Non so neanche, mi dicono che il sindaco ha zerato la giunta ma non lo ha preso un minuto e mezzo fa dal sindaco e vediamo nelle prossime ore cosa deciderà il sindaco e cosa decideranno i consiglieri comunali. Il sindaco ha tentato un'opera di convincimento andando a pranzo a Pescara con Gerosolimo D'Alfonso Bruno Di Masci e il segretario regionale del PD Rapido. Un pranzo indigesto per Peppino Ranalli concluso si senza il dolce ma solo con la mano. Sono partite a questo punto le telefonate ai consiglieri per far firmare le dimissioni. A far cadere Ranalli saranno i tre del PD Alessio Di Masci, Fabio Ranalli e Maria Ciampaglione, i quattro vicini a Gerosolimo Gianfranco Di Piero, Luigi Santilli, Daniele del Monaco ed Alessandro Pantaleo e gli altri della minoranza Luigi La Civita e Mimmo Di Benedetto. Per quanto riguarda invece Alessandro Luci deciderà l'assemblea di Sbic se il loro consigliere dovrà firmare le dimissioni oppure no. Sta dunque per avvenire la fine anticipata dell'amministrazione Ranalli, giusto in tempo per riandare alle elezioni a maggio. Da domani potrebbero già aprirsi le candidature. Dunque un pranzo indigesto quello del pomeriggio quando il sindaco di Sumona Peppino Ranalli ha tentato di chiarire e di ricucire lo strappo con il PD. Sentiamo che cosa ha detto a un DATG subito dopo l'azzeramento della giunta questa mattina a margine della conferenza di D'Alfonso alla Abbazia Celestiniana. Il 30 gennaio del 2014 il sindaco azzerò per la prima volta la giunta. Dopo due anni la storia si ripete. C'è qualcosa che non va, sindaco? Problemi nella maggioranza ma sicuramente una mia volontà di cogliere delle opportunità in più. Di rafforzare il governo cittadino con naturalmente con la partecipazione e con il ragionamento fatto da tutte le forze politiche del centro-sinistra per iniziare un percorso che deve essere più serrato. Questa mattina qui alla Abbazia Celestiniana abbiamo visto un primo risultato che è quello della delibera di giunta assunta ad aprile dell'anno scorso con dei soldi, con la consegna dei lavori, con degli impegni che ancora oggi il Presidente ha preso qui davanti a tutti. Quindi per fare questo abbiamo bisogno di stabilità, abbiamo bisogno di correre, abbiamo bisogno di portare a casa degli obiettivi che io ritengo che Sumona deve recuperare. È su questo discorso che io farò un ragionamento con tutte le forze politiche cittadine ma soprattutto quelle del centro-sinistra per avviare una nuova fase che ci può portare oggi a cogliere quegli obiettivi. Il nuovo scenario esecutivo si dice che uscirà un componente del PD, è così? Assolutamente, i discorsi sono tutti aperti, io voglio ascoltare i partiti, voglio ascoltare i gruppi, voglio ascoltare i consigli comunali. Oggi c'è bisogno della responsabilità di tutti. Io l'ho detto nei mesi scorsi, sono mesi che dico che bisogna essere uniti e sono mesi che dico che bisogna cogliere gli obiettivi per la città di Sumona, questo è il mio intento e voglio farlo con la massima tranquillità perché questo è il programma di mandato, devo rispondere a chi mi ha eletto da sindaco, devo rispondere alla città di Sumona. Oggi ci vuole uno scatto di orgoglio e bisogna andare avanti. Non è un accordo con l'assessore regionale? Abbiamo discusso, ci sentiamo tutti i giorni per i problemi della nostra città, da questo dell'abbazia, ai trasporti, ai problemi delle aree interne, ai problemi sanitari, ai problemi degli insediamenti che devono venire e quindi con una discussione e con delle proposte. Ritengo oggi che sia obbligo e dovere di tutti noi di mettere in campo, così come ho detto da qualche settimana, tutti gli strumenti che abbiamo. Io come sindaco, l'assessore con gli strumenti che ci sono, le forze politiche con le loro attività politiche e i consiglieri comunali con il loro ruolo istituzionale. Sul progetto Autostrade non so se sente più sereno dopo le rassicurazioni del Presidente dal fuoco. Certamente sì, ma non molo la guardia, voglio stare in campo, voglio capire bene le questioni. Devo dire che il Presidente oggi è stato molto chiaro anche sulla questione dell'ASNAM con un impegno ad una riunione fra tutte le parti e con un impegno che sta mettendo oggi anche nei confronti del Governo. Io credo che tutti questi problematiche facciano parte di un quadro più complessivo sulle quali dobbiamo essere tutti quanti con un'azione di responsabilità pronti a dare il meglio di noi. E queste le dichiarazioni a caldo di Ranalli al termine della conferenza stampa alla Bazzia prima del pranzo che doveva essere chiarificatore, ma lo scenario come sappiamo è cambiato. Nove consiglieri comunali sono pronti a dimettersi. La città merita di più. Ha commentato nel pomeriggio in una nota la coordinatrice provinciale di Forza Italia, Antonella Di Nino. Sentiamo un eservizio. Le ragioni di buonsenso dovrebbero spingere anche coloro che oggi ci hanno messo la faccia a farsi da parte e a dare alla città di Sulmona la possibilità di un buon Governo volto all'unico interesse e degno di salvaguardia, quello del territorio e della sua collettività. Dura la coordinatrice provinciale di Forza Italia, Antonella Di Nino, sulla brutta aria che tira a Palazzo San Francesco dove nelle prossime ore nove consiglieri sarebbero pronti a staccare la spina all'amministrazione Ranalli. Invece di andare a difendere le ragioni di un intero territorio troppo mortificato dalla politica regionale nazionale targata PD, oggi gli odierni amministratori sono andati a sedersi a Pescara nel vano tentativo di rispolverare la vecchia politica della Prima Repubblica. Questo è intollerabile, incalza la Di Nino che aggiunge, se questa è la politica che avrebbe dovuto guidare Sulmona nella sua rinascita economica, sociale e culturale, allora troppo tempo si è perso per capire che non vi erano i presupposti. E per il momento lasciamo la politica con lavori da 12 milioni di euro, la bazia celestiniana di Sulmona tornerà al suo antico splendore, l'ho annunciato oggi a Sulmona il Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Consegniamo oggi il primo lotto di lavori per 2 milioni di euro che valorizzeranno il complesso monumentale della bazia celestiniana. Lo ha detto a Sulmona il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, dove ha incontrato gli amministratori locali e rappresentanti della sovrintendenza ai beni culturali e ambientali per illustrare lo stalo del progetto. Si tratta del primo di sei lotti aggiunto per complessivi 12 milioni di euro che dovranno portare la bazia al suo antico splendore. Noi siamo venuti qui dicendo che l'abbadia era un'opera faro dell'Abruzzo e abbiamo accompagnato a quella dichiarazione di volontà risorse finanziarie, procedure, stabilimenti prioritari. Adesso la parola d'ordine è, dopo che rinasce nella sua bellezza, nel suo mito l'abbadia, la bazia, ci deve tornare la vita, la vita culturale, la vita economica, la vita anche delle tradizioni, la vita anche della cultura del diritto, la vita anche del confronto tra le religioni. È possibile fare questo? Sì, perché colgo e tocco con mano assieme all'assessore Gerosolimo che c'è una comunità interessata, c'è un livello di guardiania che è straordinario, compreso anche un luogo di formazione di figure professionali che hanno a che fare con il diritto. Io non dimentico che Sulmona è stato un giacimento, una sorgente di formazione del diritto canonico, per esempio. Il primo passo costituirà nel recupero della parte muraria, togliendo le aggiunte nei corpi esterni. Dopo gli altri 10 milioni si comincerà a lavorare sulle strade esterne. Il recupero e completamento della bazia è la prima di una serie di risposte che l'aggiunta D'Alfonso darà al territorio e incalza l'assessore regionale Andrea Gerosolimo. Arriveranno anche dei fondi strutturali per le zone interne in modo da entrare in competizione con la costa e nel giro di tre anni avere finalmente un Abruzzo a una sola velocità, aggiunge l'assessore. La bazia è il primo passo concreto perché rappresenta un giacimento forse, credo, il più importante d'Abruzzo. Questo è il primo segnale che l'aggiunta regionale dà al nostro territorio, il primo di una serie di segnali importanti che arriveranno con il masterplan che prevede un investimento di 12 milioni di euro sulla bazia celestiniana. È un progetto che io ritengo straordinario ed è stato ritenuto dal Presidente del Consiglio uno dei progetti più interessanti che si completa poi con gli investimenti che faremo attraverso i fondi strutturali che saranno investimenti molto importanti. Nessun rischio per il progetto autostrada, parola del governatore Luciano D'Alfonso. Per quanto riguarda la bretella di Pratola-Pelinia per il collegamento ferroviario Pescara-L'Aquila, il Presidente ha incontrato il neocomitato. Facciamo il punto nel servizio. Nessun rischio per l'infrastruttura autostradale, parola del Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso. Nel corso della sua conferenza alla bazia celestiniana per rendere noto il programma di completamento e recupero, il governatore si è espresso sul progetto di strada dei parchi rassicurando gli amministratori locali. Quella che faccio è una dichiarazione solenne, ha detto D'Alfonso, sull'autostrada rischio zero. Per questo territorio non ci sarà un di meno ma un di più in calza il Presidente. Rischio zero, difficoltà zero, aumento delle lontananze zero. Ci sarà soltanto un tema di comodità che io mi ergo a garante nei confronti sia del soggetto gestore autostradale che del Ministero delle Infrastrutture. Presto faremo un confronto con i sindaci, con l'assessore alla coesione territoriale per entrare nel dettaglio millimetrico e dimostrare quello che sto dicendo. Le dichiarazioni del governatore hanno in parte rassicurato il sindaco di Sulmona, Peppino Ranalli. Prenderò parte a questo confronto con il Presidente perché il nostro territorio sul fronte dei trasporti ha bisogno di potenziamenti, ribadisce il primo cittadino. Non mollo la guardia, voglio stare in campo, voglio capire bene le questioni. Sulla questione della bretera di Pratola-Pelinia per velocizzare la tratta ferroviaria a Roma, il Presidente Luciano D'Alfonso ha incontrato all'adre della conferenza Antonio Menchinelli, Lorenzo Di Orio e Danilo De Fanis del neocomitato Sulmona Stazione di Sulmona. Ricevendo un documento dal comitato D'Alfonso promette un incontro con il sindaco Ranalli e l'assessore Gerosolimo per approfondire la questione. Siamo rassicurati in parte, spiegano Menchinelli e De Fanis. Ci organizzerà un incontro con la quale potremo dibattere la situazione anche con l'assessore Gerosolimo e col sindaco. Adesso le nostre prossime mosse saranno quelle di incontrare il sindaco per avere un colloquio più approfondito perché abbiamo portato avanti lo studio sulla bretella e le nostre... ...e' consegna dal Presidente della Regione e quindi ha detto che valerà il tutto e con l'incontro chiariremo meglio la situazione. La bretella di Pratola Peligna porterebbe al declassamento della stazione di Sulmona con la diminuzione del numero dei passeggeri e delle corse sulla Pescara-Sulmona. È un'opera da scongiurare, chiosano i due. I rischi sono quelli di una diminuzione delle corse per Pescara e di una diminuzione anche per l'Aquila. Quindi secondo il nostro giudizio questa bretella sono 5 milioni e potrebbe essere destinata diciamo al potenziamento generale. Per esempio utilizzando treni diretti Pescara-Aquila passanti per Sulmona e utilizzando diciamo ecco il meccanismo che usa Teramo quindi dello scambio a Giulianova e che torna indietro con lo stesso treno. Perché diciamo il depotenziamento potrebbe anche portare diciamo un declassamento della stazione di Sulmona che adesso è il rango silver e magari divenendo anche le corse anche diciamo la perdita del presidio della Polizia Ferroviaria. Sul progetto dell'autostrada le rassicurazioni sono arrivate anche dalla stessa strada dei parchi. I collegamenti sostiene la società in una nota non subiranno variazioni. La società di strada dei parchi intende rassicurare le soluzioni locali e la pubblica opinione che nella proposta predisposta nel massimo rispetto della salvaguardia dell'ambiente sono garantiti tutti i collegamenti assicurati al territorio dagli attuali tracciati nell'autostrada A24 e A25. E quanto si legge in una nota diffusa dalla stessa società che interviene sull'accessissimo dibattito del progetto autostradale. Strada dei parchi SPI in relazione alle posizioni espresse da alcune amministrazioni pubbliche e associazioni locali relativamente alla nuova proposta di piano economico finanziario presentata dalla società, secondo quanto imposto dall'articolo 1,183 della legge numero 228 del 2012 per la messa in sicurezza dell'autostrada A24 ed A25 dopo il terremoto del 2009 ritiene di non dover replicare in questa fase a quanto espresso non certo per mancanza di rispetto verso tali autorevoli interlocutori e la pubblica opinione ma bensì perché intende rispettare il lavoro istruttorio del ministero delle infrastrutture e dei trasporti attualmente in corso sulla proposta presentata scrive strada dei parchi nella nota. Di fatto la società non ha ancora spiegato i contenuti del progetto ma rassicura agli amministratori locali che in questi giorni sta un esprimento di senso e preoccupazione. L'argomento è stato al centro anche dell'incontro che ieri il viceministro Roberto Rencini ha avuto a Sulmona con imprenditori e associazioni locali. Il progetto va esaminato nei tempi dovuti ma resta un grande investimento, ha detto a chiare lettere Nencini. Non abbassa la guardia sull'argomento Peppino Ranalli che insieme al presidente della provincia dell'Aquila Antonio De Crescentis e alla senatrice del PD Stefania Pezzopane si è detto contrario al progetto di strada dei parchi. Sulla SNAM non mi fermo, così da Alfonso Stamania Sulmona ai comitati cittadini per l'ambiente, il portavoce Mario Pizzola ha chiesto al governatore di chiamare De Vincenti per un'assemblea pubblica territoriale. Il servizio. Ho fatto tutto quello che potevo fare ma ovviamente non mi fermo, così il presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso sulla vicenda SNAM in un incontro con i comitati cittadini per l'ambiente a margine della conferenza stampa alla bazia celestiniana di Sulmona. Conosco il valore di questo sito ma se nel 2011 avessero lavorato come noi non staremo a questo punto, ha fatto capire il governatore. Il portavoce dei comitati Mario Pizzola ha chiesto al presidente di chiamare De Vincenti per un'assemblea territoriale da tenere sul tema. Quello che torniamo a chiedere a Gravoce è la delocalizzazione dell'opera fuori dalla dorsale appenninica. Non altre soluzioni, ribadisce Pizzola. Il tavolo previsto dai parlamentari è solo attraverso un tavolo vero. Si possono mettere a confronto le diverse ipotesi. Ecco su questo il presidente non ha assunto l'impegno che noi gli stiamo chiedendo da tempo ormai e quindi continueremo con le nostre iniziative, con la nostra lotta democratica non violenta. Il lunedì noi saremo sotto il comune per il sitino che abbiamo annunciato affinché il sindaco decida di assumere la guida di questo movimento di protesta e di difesa dei nostri diritti. Convochi i sindaci, convochi i parlamentari e convochi anche il sottosegretario De Vincenti. Noi vogliamo confrontarci a tutto campo con il governo e con la SNAV. Per lunedì prossimo intanto i comitati sono pronti al sitino in comune con appuntamento alle 15.30. Rischia la chiusura il reparto di medicina nucleare di Sulmona. A denunciarlo Anthony Pasqualone della CGL per il reparto squilla il secondo campanello d'allarme. I particolari nel servizio. Da metà gennaio non vengono più eseguite le prestazioni per esami scintigrafici nel reparto di medicina nucleare del Santissima Annunziata. E quanto denuncia in una nota Anthony Pasqualone della CGL che fa notare come il reparto del presidio ospedaliero sembra essere destinato alla chiusura dal momento che risulta assente il personale medico. Come previsto dalla vigente rotazione organica per la medicina nucleare di Sulmona sono previsti due dirigenti medici e uno dei dirigenti medici, vincitore di concorso per il posto di Sulmona, è stato trasferito dal 2014 al presidio ospedaliero dell'Aquila in calza il sindacalista CGL. Attualmente fa notare sono in servizio solo tre tecnici che da soli non possono garantire la piena funzionalità del reparto. Pasqualone chiede l'immediata riattivazione del reparto attraverso l'assegnazione a tempo pieno di personale medico. A distanza di poche settimane questo è il secondo campanello d'allarme che arriva sul futuro del reparto di medicina nucleare. Il primo fu lanciato dal responsabile regionale del Tribunale del Malato, Edoardo Facchini. L'ASL replicò immediatamente sostenendo che l'attività del reparto non ha mai subito interruzioni e i servizi vengono regolarmente erogati. La Polizia di Sulmona fa il bilancio sui principali interventi del 2015 in aumento i reati informatici e raggiri agli anziani. Sentiamo i particolari. Calano i reati commessi a Sulmona passati da 673 a 660, in particolare dei furti scesi da 205 a 178. Sono state denunciate 179 persone, 10 sono stati gli arresti. Unica eccezione è reati informatici che hanno registrato un incremento a dimostrazione che troppe persone oggi cadono nella rete. I dati riferiti al 2015 sono stati resi noti stamane nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso il locale commissariato di Polizia, coordinato dal vicequestore aggiunto Francesca Lachioma, con i sostituti commissari Massimo Di Stefano, Antonio Casciato, Antonio Romanelli e con l'ispettore superiore Daniele Lerario. Diciamo che l'andamento del 2015 dei reati nella città di Sulmona ha visto una lieve diminuzione generale da 673 a 660, con un netto calo dei furti che sono scesi da 205 a 178. Gli unici reati che hanno visto un aumento appunto sono i reati informatici, infatti a tal proposito volevo ricordare a chi ci ascolta di fare molta attenzione soprattutto a utilizzare internet e social network e in particolare ci sono tantissime truffe per l'acquisto di oggetti su internet, in particolare quando si vede che un prodotto che ha un prezzo di mercato, un certo prezzo di mercato, costa notevolmente di meno insomma dovrebbe già far accendere la lampadina a chi vuole acquistare insomma che c'è qualcosa che non va. Fenomeno che cresce è anche quello del raggiro agli anziani. Ma ci tengo soprattutto alle persone anziane che magari possono ascoltarci, di fare attenzione in questi casi quindi vi consiglio se sentite una chiamata del genere di chiamare o le forze dell'ordine quindi 113 o 112 e soprattutto insomma cercate anche di contattare il parente insomma per chiedergli prima di poter diversare questi soldi insomma di chiedergli se sta bene insomma. Sono aumentati i servizi straordinari di controllo del territorio svolti sia in città che nei comuni di Mitro fin totale 26, 10 dei quali sono stati svolti con le altre forze di polizia presenti sul territorio. Per quanto concerne l'immigrazione sono stati rilasciati 62 permessi di soggiorno e rinomati 187 mentre sono state 100 le richieste di carta soggiorno. Non sono mancati controlli amministrativi. Sono state infine ricordate le principali attività di polizia giudiziaria svolte nel 2015. Quella più eclatante è l'arresto del boss della Camorra dopo due anni di pedinamenti e appostamenti come ha ricordato l'ispettore superiore Daniele Lerario. Tra gli altri interventi l'esecuzione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di un 33enne originario della provincia di Brindisi residente a Sulmona pregiudicato autore della rapina avvenuta nel pomeriggio del 2 gennaio 2015 presso il punto 20 da Conad di via Postiglione e della tentata rapina avvenuta poco prima in una tabaccheria di via Le Mazzini a Sulmona. Il deferimento di tre persone, due cittadini cinesi, moglie e marito, per i reati di esercizio di una casa di prostituzione e un 39enne italiano per il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L'esecuzione di tre misure cautelari, due arresti domiciliari, un obbligo di permanenza in casa nei confronti di tre giovani di etnia Rom, uno dei quali minorenne, responsabile delle aggressioni avvenute nella notte del 20 settembre scorso sulle scale dell'annunziata e infine l'esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti del responsabile dell'accoltellamento di un 22enne sulmonese avvenuto nei pressi di un locale di Sulmona la notte del 7 novembre, denunciato per i reati di lesioni personali e minaccia aggravata, per porto abusivo di arma, con l'aggravante della ricidiva specifica e per il reato di rissa insieme ad altre tre persone, fra cui il ragazzo accoltellato. In arrivo ai fondi per le imprese agricole e giovanili, ieri Summit a Prato, la Faconfagricoltura e imprenditori. Facciamo il punto. 432 milioni di euro sul piatto del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, che saranno nei prossimi 4-5 anni la cassa principale, forse l'unica a disposizione delle imprese. Il punto è stato fatto ieri al Teatro d'Andrea di Prato, La Peligna, in un convegno che ha chiamato a raccolta imprese e imprenditori. In arrivo dei banti per i giovani agricoltori Antel 40, 53 milioni di euro, per investimenti 126 milioni di euro e per la promozione dei prodotti agricoli 7 milioni di euro. È un'occasione non solo per gli imprenditori agricoli, spiega Stefano Fabrizi, direttore di Confabricoltura, ma anche per amministrazioni comunali, perché alcune di queste misure di finanziamento sono accessibili anche ai comuni. Abbiamo parlato degli investimenti che possono sostenere i giovani imprenditori sotto a 40 anni, abbiamo parlato del primo insediamento, quindi le nuove aziende che si possono formare attraverso il finanziamento del comunitario a favore di giovani che iniziano l'attività come primo insediamento. Al convegno aperto dal Presidente della provincia dell'Aquila Antonio De Crescentis ha partecipato anche il Presidente regionale di Confagricoltura. Le opportunità per i giovani sul territorio ci sono, sono interessanti, sono significative, però come dire, nascondono dei vincoli, più o meno palesi da una parte, più o meno nascosti dall'altra. È importante in questo senso capire bene qual è l'ità imprenditoriale che si ha e calarla all'interno di quella che è la degradatoria dei punteggi attribuiti a tutta una serie di passaggi che ci saranno all'interno del PSR per arrivare poi uno si auspica al finanziamento. Che i giovani oggi tornino al mondo dell'agricoltura è un dato di fatto, ma attenzione che i fondi destinati agli agricoltori vengano utilizzati solo dai medesimi. Effettivamente questo è un problema che stiamo notando negli ultimi anni. Ci sono delle derive che vanno verso altri settori agricoli e questo probabilmente è una deriva che dobbiamo evitare per il futuro immediato. PSR, ahimè, è stato anche utilizzato dalle zone rurali per fare cose che non totalmente rientrano al 100% del mondo agrozootecnico. Noi pensiamo che questo sia in parte un errore da correggere in parte e quindi stiamo appunto spingendo in quella direzione di focalizzare più le risorse in questo rapporto molto stretto tra il mondo agrozootecnico, quello del mondo dei produttori e quindi dei trasformatori e il mondo della distribuzione. Perché questo piano di sviluppo rurale è vero che interessa agli agricoltori, però i finanziamenti, molti finanziamenti vengono utilizzati da chi non è agricoltore. Quindi questo è il solito gioco politico che si sfrutta nell'agricoltura per finanziare altri. Faccio presente una cosa, nel programma dei FAS e di altre attività, di altri progetti regionali, prendono tutti i finanziamenti, tranne che gli agricoltori, perché non sono riservati agli agricoltori, mentre nel finanziamento degli agricoltori prendono anche gli altri. Questo ci sta un po' stretto. Con il diploma degli istituti tecnici futuro assicurato ne hanno dato contezza ieri a Liti di Pratola-Peligni avvocati, professionisti e ingegneri. Sentiamo. Avvocati, ingegneri e liberi professionisti sono cresciuti negli istituti tecnici conseguendo il diploma di maturità immediatamente speso nel mondo del lavoro o nella carriera universitaria. Ne hanno dato contezza le testimonianze di Maria Tornifoglia, Giuseppe Carbone, Attilio Palombizio, Gianni Cirillo, Giovanni Sant'Angelo, Luca Casasanta e Veronica Mastro di Casa, che ieri sono intervenuti a Liti di Pratola-Peligni per raccontare, chi dà al vivo e chi tramite un video, la loro esperienza maturata all'interno degli istituti tecnici. Nel corso degli studi universitari e nell'avviare la loro attività professionale, gli ex ragionieri geometri e periti industriali hanno riconosciuto nella formazione offerta dagli istituti tecnici un valore aggiunto, una sorta di metro di studio e di lavoro che apre le porti al futuro. Mi sono diplomato nel 2007 e ho conseguito il diploma di meccatronica. Attualmente sono entrato nell'azienda di famiglia e svolgo l'attività di direzione tecnica. Ho conseguito un diploma di periodo industriale elettronico e telecomunicatore in questo istituto nel 2002. Adesso lavoro in aerospaziale, presso la talessa Lenea Space e mi sto occupando in questo momento di collaudo e di dispositivi libri che praticamente saranno integrati nella nuova costellazione Cosmo SkyMed per l'Asia. Per chi come me gestisce un'attività alberghiera è fondamentale che la scuola si impegna a creare delle figure e quindi accompagnare nel percorso scolastico questi ragazzi che durante il percorso si interfaccino anche con le aziende, con i progetti di alternanza scuola-lavoro. In soluto si vede se in un cantiere c'è o no un geometra che coordina tutte le lavorazioni e soprattutto la sicurezza. E' stata una fortuna aver scelto geometri che poi si è rivelata nel corso degli anni che mi ha permesso anche di affrontare anche pratiche difficili nella mia pur breve esperienza Il percorso formativo è stato condizionato positivamente dalla frequentazione dell'Istituto Tecnico Commerciale perché comunque grazie a questa scuola io ho avuto l'opportunità di conoscere i fondamenti delle materie giuridiche che poi ho ripercorso in modo più approfondito nel mio percorso universitario e anche nella mia carriera professionale. Sicuramente la scelta successiva diciamo dei miei studi è stata sicuramente agevolata dal fatto che mi interessavano materie tecniche quindi il fatto di aver scelto ingegneria anche se non rientrava nel mio ambito chimico diciamo dei precedenti studi comunque è stato fondamentale. Il 44% di ragionieri geometri e periti industriali trova lavoro già un anno dal diploma e il 20% dei loro contratti sono a tempo indeterminato. A ricordarlo è stato il docente Stefano Di Mascio responsabile del progetto orientamento dell'ITI. Il 20% dei contratti offerti a diplomati tecnici è a tempo indeterminato quindi questi sono dei numeri che dicono tutto su quali siano le possibilità lavorative rapide di inserimento da parte dei diplomati degli istituti tecnici. E toccato al docente Francesco Lucantoni, coordinatore di sere dell'ITC e ITG, riba dire che le imprese oggi cercano i tecnici e spesso e volentieri lo fanno anche durante il periodo di formazione scolastica. Continui i contatti con le imprese che ci chiamano, che ci contattano direttamente nella scuola addirittura per richiedere figure di tecnici prima del diploma stesso. Quindi già cominciano a collegarsi alla scuola per avere al momento dell'uscita dei ragazzi dei quinti anni già delle persone da poter prendere le proprie ditte e addirittura assumere il contratto indeterminato. Sono una cinquantina le aziende convenzionate con il polo scientifico-tecnologico che danno ai giovani un primo assaggio del mondo occupazionale attraverso il progetto di alternanza scuola-lavoro che in 400 ore di tirocinio vede i ragazzi entrare nelle fabbriche e nei cantieri. Nel corso della conferenza stampa, alla quale erano presenti anche Massimo Tronca e Nicola Garzisi, è stata presentata l'offerta formativa dell'ITC, ITG e ITI ed è stato fatto notare come lo studio di discipline giuridiche ed economiche presenti in tutti e tre i corsi, costituiscono la pietra miliare dei vari indirizzi. E ora passiamo al calcio, il punto sulle squadre Pelinia che domani scenderanno in campo cominciando dal capionato di promozione nel girone B, la prosulmone è chiamata a riscattarsi dopo la sconfitta a Casalbordino di domenica scorsa. Domani al Pallozzi arriverà il Penetanova che si trova nelle ultime posizioni in classifica. Nel girone A i Nero Stellati, secondo in classifica a meno due dal Mutignano, giocheranno il big match di giornata a Teramo contro la Virtus che ha un punto in meno rispetto ai Pratolani. Inizia il girone di ritorno in terza categoria. Nel girone A la Morronese, dopo aver conquistato domenica scorsa la prima posizione insieme al Pianola, domani affronterà fuori casa la San Gregoriese. Nel girone B l'Aurora, nell'anticipo di oggi, è uscita sconfitta per 2-0 sul campo della capolista Deportivo Luco. E nella terza categoria del girone B, dopo il ritrovato successo, domani alle 15 Lovidiana affronterà al Mezzetti Lovindoli. Domenico Berlingeri. Concluso il girone di andata con la vittoria contro l'ex vice capolista Castronovo, Luvidiana è concentrata per la gara della prima di ritorno di domani al Mezzetti contro l'ultima in classifica Ovindoli. Il ritorno al successo imprime fiducia alla squadra degli Ultras, che non si è mai persa in animo. Le difficoltà in questa stagione, legate principalmente all'impiantistica e alle troppe assenze dei giocatori in quasi tutte le gare, essendo state proprio tante, avrebbero potuto far perdere l'entusiasmo. I giovani dirigenti biancorossi, invece, hanno mostrato sempre coraggio e determinazione. Ora il gruppo, pur senza una guida tecnica per l'abbandono di Attilio Mezzadri per motivi di lavoro, è tornato compatto. Tranne Daniele Tottone e Kevin Di Giovani assenti per motivi personali, gli altri sono tutti a disposizione per il match contro l'Ovindoli. All'andata finì 0-0, ma ora i sulmonesi proveranno a sfruttare a proprio vantaggio il momento negativo dei marsicani, che non ottengono un risultato positivo dal pari con il campo di giove del 13 dicembre e non vincono dalla gara contro l'Aielli del 29 novembre. La formazione che scendere in campo non dovrebbe variare rispetto a quella che ha sconfitto il Castronovo con un gol di Andrea Traficante e una doppietta di Ezio Romanelli, l'attaccante con trascorsi da portiere che finora è andato a segno con sei reti, di cui cinque proprio al Mezzetti. Oltre alla doppietta di domenica scorsa, Romanelli realizzò una tripletta contro il campo di giove. Il Mezzetti dunque porta bene perché in questa stagione è stato un campo, nonostante le non perfette condizioni, dove l'Ovidiana ha avuto sempre risultati positivi con due vittorie ed altrettanti pareggi. L'intento è quello di fare più punti possibili nel girone di ritorno per cercare di recuperare il terreno perso. Dopo la gara interna con l'Ovindoli ci sarà la trasferta da Ielli, l'altra squadra ultima in classifica. Senza ovviamente sottovalutare gli avversari, l'Ovidiana proverà a sfruttare la propria superiorità. In preparazione del confronto con l'Ovindoli, la squadra ha disputato giovedì un amichevole con il Canzano a Pittorano sul Gizio. L'ambiente era sereno e disteso, cioè quello giusto, per provare a vincere di nuovo in questa seconda gara casalinga consecutiva. Ovidiana Ovindoli sarà arbitrata da Giovanni Pagliari della sezione di Sulmona. Da domani il calcio d'inizio sarà alle 15. Per chi vuole passare sabato sera la multisala Iggoland di Corfinio, sono tre film in programma, l'abbiamo fatta grossa 22.40, Revenant 21 e 10, Joy 21 e 10. Ora prima di chiudere torniamo alla notizia del giorno, alla fine dell'amministrazione Ranalli che è vicinissima. È solo questione di ore per la fine dell'amministrazione Ranalli, nemmeno con l'intervento del governatore Luciano D'Alfonso, con il quale il sindaco è stato a pranzo a Pescara, è stato raggiunto un accordo per ricucire lo strappo. A far cadere Ranalli saranno i tre del PD, Alessio Di Masci, Fabio Ranalli e Maria Ciampaglione. I quattro vicini a Gerosolimo, Gianfranco Di Piero, Luigi Santilli, Daniele del Monaco, Alessandro Pantaleo e gli altri della minoranza, Luigi La Civita e Mimmo Di Benedetto. Per quanto riguarda invece Alessandro Lucci deciderà l'Assemblea di Sbic se il loro consigliere dovrà firmare le dimissioni oppure no. E bene davvero tutto per questa edizione, vi ricordo alle 21 l'appuntamento con la rubrica religiosa Il respiro dell'anima. A questo punto non mi resta che augurarvi una buona serata e una buona domenica. Noi con Onda Tg ci vediamo lunedì. Arrivederci. Alta pressione ancora ben salda nel Mediterraneo, anche se non sarà durante questo weekend sinonimo di cielo sempre sereno. Nelle prossime ore sull'Abruzzo avremo cielo sereno poco nuvoloso. Quel poco nuvoloso sta proprio a rappresentare la presenza di velature o nuvolosità medio-alta. Qualche banco di nebbia o locali gelate saranno possibili durante la prossima notte. Temperature stazionarie in diminuzione ovviamente dopo il tramonto. Venti deboli e mare generalmente poco mosso. La giornata di domenica 31 gennaio sarà caratterizzata da nuvolosità sparsa a tratti irregolari un po' in tutto il territorio regionale. Dalla sera avremo ampi spazi di cielo sereno. La nuvolosità risulterà più compatta sui settori occidentali, dove nelle ore centrali del giorno non si esclude qualche locale o isolato piovasco. Ventilazione moderata a tratti forti, sud occidentale al mattino, occidentale invece dal pomeriggio. Mare generalmente mosso o molto mosso. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Oscilleranno tra i più 6 e più 13 dell'Aquila, i più 7 e più 14 di Sulmona ed i più 11 e più 17 di Pescara. La giornata di domenica 31 gennaio sarà caratterizzata da nuvoluzione.